La relazione semestrale segue la precedente relazione che era annuale e si è tenuta il 27 novembre del 2023. I dati che ha acquisito l'Ufficio del Garanta regionale in questo momento non solo confermano il trend di quelli precedenti ma indicano in alcuni settori anche un aggravamento della situazione in generale. Questo riguarda innanzitutto il sovraffollamento perché la maggior parte dei istituti penitenziari calabresi sono in sovraffollamento, alcuni peraltro che vi indicherò con dei margini molto elevati sono Castrovilla, Rilocri, Cosenza e Crotone, i più elevati. Dopodiché per quanto riguarda i diversi istituti quello che ha riscontrato il Garanta regionale è una sofferenza generalizzata che riguarda gli organici, gli organici Polizia Penitenziaria, gli organici anche i funzionari giuridico-pedagogici con motivazioni diverse nel senso che ad esempio quelli di Polizia Penitenziaria che continuano ad essere in grande sofferenza hanno poi dei valori molto elevati in alcuni istituti con deficit piuttosto consistenti, pensiamo a Catanzaro, a Paola, a Palmi e a Vibo Valencia e questi sono i più elevati. Come funzionari giuridico-pedagogici la situazione è apparentemente migliorata perché sono stati integrati molti funzionari e anche i mediatori culturali, però come dicevo prima il problema qual è? Che se prima avevamo un rapporto che era un educatore ogni 100 detenuti ora il rapporto è mutato e abbiamo due educatori ogni 100 detenuti. Immaginate voi se è possibile affrontare la situazione carceraria in queste condizioni, per stessa ammissione il capo dipartimento russo ci vorrebbero almeno 2000 in generale funzionari giuridico-pedagogici in più. Questo per quanto riguarda gli organici. Per quanto riguarda gli altri aspetti è migliorata la situazione dell'istituto penale minorile dove la capienza è massima di 36 posti, è stato molto rafforzato all'organico di polizia penitenziaria, c'è però e continua ad esserci un grave problema che è quello della mancanza dei funzionari e degli educatori, c'è un solo educatore per un intero istituto penale minorile. In più l'effetto del decreto caivano si fa sentire che abbiamo avuto un più 23% di detenuti minori e giovani adulti distretti nell'istituto penitenziario rispetto all'anno precedente con pochissimi definitivi e la maggioranza in misura cautelare in carcere. Questo è l'effetto del decreto caivano. Rems Calabresi, Santa Sofia dei Piri e Giri Falco è entrata a pieno regime o quasi quella di Giri Falco che ha raggiunto la capienza del primo modulo di 20 pazienti e è a pieno regime anche di quella, la Rems di Santa Sofia dei Piri. Però quello che è interessante sulle due Rems è comprendere qual è la situazione generale perché abbiamo sulle Rems, in linea di massima fortunatamente non c'è nessuno in questo momento in carcere, sino in titolo perché non si trovi in una Rems in Calabre, ma abbiamo una lunga lista di attesa di persone che attendono di essere collocate nelle Rems e sotto questo profilo il tempo medio di attesa supera addirittura i due anni. Dopodiché nota assolutamente critica quella che riguarda ciò che è accaduto in questi quasi sei mesi perché questo report riguarda primo gennaio 12 giugno attraverso i dati del Garante Nazionale, mi riferisco agli eventi critici. Come sapete lo scorso anno noi avevamo avuto quattro suicidi nell'arco del 2023, ora abbiamo avuto già tre suicidi nei primi sei mesi dell'anno, il terzo quello presso la casa circondagare di Paola, un giovanissimo la fine di giugno e questo report che cosa ci dice? Ci racconta quello che avviene negli istituti. Vi do qualche dato che è impressionante. Il totale complessivo dal primo gennaio al 12 giugno è di 5.306 eventi critici. All'interno abbiamo i tre suicidi, il terzo è intervenuto successivamente al 12 giugno ma l'ho incluso, quindi abbiamo tre suicidi nei primi sei mesi, dopodiché abbiamo 80 tentativi di suicidio in questo periodo, 225 atti di autolesionismo, 225 e 75 aggressioni fisiche ai danni del personale di polizia penitenziaria. All'interno della relazione semestrale sono indicate tutte le tipologie di eventi critici, quindi le infrazioni disciplinari piuttosto che atti di qualunque tipo che sono accadute all'interno degli istituti. Questi numeri sono particolarmente allarmanti e restituiscono un quadro rispetto al quale purtroppo, devo dire la verità, non si è intervenuti in alcun modo. Ci sono tutta una serie di altre situazioni critiche che riguardano, ad esempio, al di là delle condizioni strutturali di cui abbiamo parlato, anche la tutela dei diritti fondamentali, cioè la consegna della carta dei diritti dei detenuti, l'approvazione del regolamento di istituto, che denotano quindi un calo di attenzione anche rispetto ai detenuti stranieri che in pochi istituti hanno avuto tutto ciò o tradotto nella loro lingua. E purtroppo si era creata un'aspettativa enorme da parte della popolazione detenuta, perché di carcere si parla ormai ogni giorno. Questa aspettativa è stata tradita allo stato attuale da tutti i provvedimenti che sono stati emessi da parte di tutti i provvedimenti, compreso il decreto nordio, che presenta delle soluzioni anche condivisibili ma che sono tutte a medio e a lungo termine, dove non viene semplificata ad esempio la liberazione anticipata, dove non viene presa alcun tipo di misura rispetto al fenomeno dei suicidi in carcere che ha raggiunto livelli mai raggiunti negli ultimi vent'anni e all'interno del quale alcune misure come quelle che riguardano le comunità pur condivisibili presuppongono l'intervento del privato sociale, delle regioni e della sanità pubblica e avranno dei tempi purtroppo lunghi. C'è da affrontare l'emergenza e l'emergenza significa occuparsi di quelle persone che hanno una pena residua di 3, 4, 5 anni che arrivano a 30.000, quindi sono quasi la metà del totale complessivo, che potrebbero uscire dal carcere, che potrebbero, diciamo, rispetto ai quali si potrebbe attivare un percorso di reinserimento sociale e che aggravano anche la situazione del sovraffollamento. Quindi su questa tipologia di persone detenute occorre intervenire al più presto. Senta, per quanto riguarda gli agenti di polizia? Sugli agenti di polizia, sul corpo di polizia penitenziaria la situazione calabrese non è mutata, in più vi dico che i diversi nuovi assunti che andranno nelle varie regioni in Calabria saranno, mi pare, non più di 70 nei prossimi mesi e quindi un numero assolutamente esiguo. È evidente che se non si rafforza l'organico di polizia penitenziaria accade quello che sta accadendo in questo momento, cioè che alle 3 di pomeriggio il carcere non è in grado di assicurare le attività rieducative. Non assicurare questi percorsi significa rischiare poi di restituire alla società delle persone che non hanno affrontato alcun tipo di cambiamento all'interno delle strutture e aggrava ulteriormente la situazione ovviamente generale. Quindi c'è necessità che il Dipartimento comprenda questa situazione anche calabrese attraverso uno sforzo maggiore. Anche quello che prevede il decreto nordio rispetto agli organici è qualcosa che accadrà nei prossimi due anni e non a breve termine. Dopodiché io vi preannuncio che sulla questione delle barriere in plexiglass che si trovano presso il carcere di Cosenza di Vivo e di Reggio Calabria, sul quale sono stato assolutamente perentorio e ho trasmesso tutta la documentazione utile. Se a breve non avrò risposte attiverò la commissione sui diritti umani fondamentali del Senato per far emergere questa situazione perché nel 2024 non è possibile murare vivi all'interno di una cella, di una camera detentiva, delle persone detenute con le temperature estive che state verificando anche voi in questi giorni. Quindi è tutto negativo, non salva nulla? Allora, io salvo le tante persone di buona volontà che all'interno del carcere, non mi riferisco solo ai volontari ma a tutti gli operatori, molti dei quali mi segnalano le urgenze sulle quali intervenire, che fanno un grande lavoro e credono in questo tipo di missione, dico io, e quello che salvo in più, mi sia consentito, è le linee guida che sono state inserite i protocolli all'interno della mia relazione che sono un'assoluta novità. Mi riferisco alle linee guida sulla tutela della genitorialità in carcere, quindi su tutte le garanzie che devono essere assicurate alle persone detenute che sono genitori e ai figli minori rispetto agli incontri e colloqui e poi mi riferisco a questo protocollo che è assolutamente lungimirante, ce ne sono diversi in corso promossi da me, ma quello del Comune di Vibo Valencia con l'amministrazione penitenziaria del carcere di Vibo Valencia perché su Anagrafe, Stato civile, di conoscimento dei figli e quindi tutto ciò che riguarda l'universo carcere e le problematiche concrete quotidiane, siamo riusciti a trovare attraverso l'accordo tra le parti un protocollo inteso assolutamente innovativo che potrà essere veicolato anche nelle altre regioni. E quindi questo mi consenta, non mi pare poco, è il frutto di un lavoro di squadra che è stato fatto su questi temi.